Cofsmerzen, 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 Mal di testa ragazzi, c'ho mal di testa, c'ho mal di testa, oggi sono deluso, sono molto 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 deluso, non mi va neanche più di spaccare il terzo quarto computer eccetera, sono deluso, per diversi motivi che vi spiegherò in questo video, allora iniziamo subito con il gol della Roma dove c'era questo fallo su Lautaro Martinez che il VAR non l'ha dato, io c'ho due opinioni, due opinioni riguardante questa scena, prima opinione che il contatto c'è, è netto, perciò il fallo lo devi dare, almeno quando c'hai la tecnologia ragazzi ormai in ogni buco del culo c'hanno una telecamera nel calcio, perciò secondo me il fallo è netto, sono onesto con voi, l'altra cosa però è quella che Lautaro Martinez è scandaloso ragazzi, è scandaloso, adesso non solo in quella situazione, parlo in generale, quando lo tocchi così cade, piange, sembra Neymar, sembra Neymar, io questi giocatori all'Inter non li voglio, forse è un mio difetto, ditemi la vostra opinione sotto i commenti ragazzi, Martinez cade troppo, lasciate stare quella situazione, fallo c'è, contatto c'è, però se tu cadi in ogni partita 150 volte, come se il pavimento fosse la figa colombiana, che non lo è, non so cosa fa sempre per terra, non fa una sponda, non riesce mai a mantenere la palla, male, 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 e non solo in questa partita, in ogni partita, Martinez sta sempre lì scopando il pavimento, non so perché, forse, forse, solo un'idea, ripeto, secondo me il fallo c'era, ma forse ormai anche gli arbitri, quando vedono Martinez cadere, pensano subito, ah, questo qui è come Neymar, cadi sempre, è una mia osservazione, ripeto ragazzi, secondo me il fallo c'era, secondo me il fallo c'era, perciò il gol poi non lo dovevano dare, però adesso ragazzi, a parte questo, sapete che sono un grande tifoso dell'autoresponsabilità, non possiamo solo prendere quella scena, quella situazione come scusa per la partita ragazzi, perché abbiamo giocato veramente male, diciamolo così, dopo l'1-0, non abbiamo più avuto idee, e l'1-1 è arrivato proprio nel momento perfetto, secondo me è stata la prima palla a gol dell'Inter, una palla ferma, un calcio d'angolo, grande Stefano De Vrij che la mette dentro, però ovviamente calcisticamente poca roba, non so voi amici interisti, se a voi basta questo, io calcisticamente vedo un Inter dimagrita, mager, 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 magasustic, magra, c'è poca roba a livello calcistico, veramente poca poca roba, anche secondo tempo, dopo il 2-1, linguaggio di corpo, pessimo, non ho mai visto un Inter che veramente ha fatto uscire il petto, che ha veramente detto adesso facciamo la differenza, adesso la rimba, adesso segniamo i gol, anche dopo i cambi di Eriksen, di Lukaku, eccetera, i nomi sono cambiati, ma il gioco non è cambiato, parliamoci chiaro ragazzi, il 2-2 è stato un regalo, è stato un regalo di Spinazzola, non so cosa ha fatto, un blackout totale, incredibile, un regalo incredibile, e sono sempre i soliti problemi, catena 3 che non funziona, Mkhitaryan che oggi ha distrutto Skriniar, parliamoci chiaro, Skriniar sempre in ritardo, con grossi grossi problemi, anche sulla fascia, la Roma ha attaccato tantissimo sulla corsia destra, Ashley Young, che parlavo così bene di lui, oggi non mi è piaciuto, con grandi grandi difficoltà, però ripeto, la cosa che a me fa impressione è che l'Inter quando deve giocare a calcio, poi sappiamo ragazzi, è l'ennesima volta che l'Inter grolla, che l'Inter dopo l'1-0 perde ancora le partite, avevo letto che la Roma non era mai riuscita di vincere contro una squadra che era prima di lei in classifica, anche oggi non sono riusciti, questo è vero, però ripeto, la cosa che a me proprio non piace è vedere l'Inter quando deve, quando dovrebbe giocare a calcio, quando dovrebbe mettere sotto pressione l'avversario, manca qualità, manca proprio qualità nel gioco, cioè vedi sempre questi in costruzione, già a Scrinia, Bastoni, De Vrij, che fanno sempre la stessa cosa, fanno sempre i retropassaggi su Handanovic, poi si allargano, Handanovic passa poi sulla corsia destra, sulla corsia sinistra, e poi spesso secondo pallone già perso, poca roba, anche a centrocampo, poca qualità nel giro palla, squadra veramente anche gestita male del mister, perché parliamoci chiaro ragazzi, uno come Eriksen se lo butti sempre dentro alla fine, quello che gli dovrebbe dare, quell'elemento di creatività, che ti dovrebbe cambiare la partita, che forse ti può essere geniale, invece no, se lo porti sempre verso la fine, ti manca ovviamente questa qualità. Questa è una cosa che io vedo in tutta la stagione ragazzi, sono fondamentalmente due cose, una, l'Inter che in costruzione è prevedibile come la morte, è prevedibile come la bellezza della figa colombiana, è incredibilmente prevedibile in costruzione, e poi è un Inter che si fa sempre, che crolla sempre, quando è in vantaggio dopo crolla sempre. Perciò ripeto ragazzi, deluso per diversi motivi, per quest'Inter, per questi problemi che ritornano sempre, un Inter che calcisticamente secondo me, le ultime due partite stava un po' migliorando, ho visto dei movimenti veramente interessanti, oggi purtroppo veramente poca poca roba, e poi anche la decisione dell'arbitro che io ripeto, non condivido, perciò oggi sono veramente deluso per diversi motivi, però se prendiamo tutti i 90 minuti, adesso a parte la decisione dell'arbitro, il pareggio ci può anche stare, perché ricordiamoci ragazzi, calcisticamente non abbiamo creato neanche un gol, neanche uno, primo gol, calcio d'angolo, secondo gol, regalo della Roma. A me non basta, io sono interista ragazzi, a me non basta, a me non basta questo qua, questo modo di calcio, non mi basta, fatemi sapere la vostra opinione, oggi sono deluso, oggi sono proprio giù di morale, un abbraccio a tutti ragazzi, vi voglio bene, sempre Forza Inter nel bene e nel male, non ho mai creduto ancora nello scodetto, l'ho sempre detto, ogni live, ogni video, ho sempre detto, ormai la Juventus ha vinto, però a livello psicologico sarebbe stato bello tenere aperto il campionato fino all'ultimo, metterli un po' sotto pressione, purtroppo dobbiamo alzare le mani e dire onestamente che ci manca la qualità, meno questa è la mia opinione, rispetto a tutte le altre opinioni, sotto i commenti ragazzi, sparate tutto quanto, mi interessa sempre, ci vediamo presto, un abbraccio a tutti ragazzi, sempre Forza Inter e in generale sempre viva il calcio!